Mi presento a questa donna elettorale con molto entusiasmo e mi presento come uno di voi, come uno per voi. E lo faccio con molta naturalezza e spontaneità, perché ritengo che la spontaneità sia il mezzo attraverso il quale si possa raggiungere più rapidamente il cuore delle persone, per meglio far comprendere le proprie intenzioni. Le mie intenzioni partono dal presupposto che Ortadella possiede un grosso potenziale. Di fatti da anni è designata come il paese più giovane d'Italia. Questo grazie alla realizzazione di infrastrutture che hanno ingolosito e spinto tantissime giovani coppie a trasferirsi nel nostro paese. Purtroppo, ciò nonostante si è fallito nel processo appena successivo, ovvero quello della conservazione, ovvero quello della realizzazione del motivo per il quale le persone restassero nel proprio paese. È lì che il mio obiettivo si funde. Il mio core working sarà quello di realizzare e di costruire il motivo per il quale le persone restino nel nostro paese, per il quale le persone siano contente di vivere a Ortadella. I temi di interesse sono prevalentemente quelli che conosciete un po' tutti quanti voi. La riqualificazione delle strutture pubbliche, la realizzazione di un istituto di secondo grado, l'aumento della sicurezza del territorio, l'aggiornamento del piano urbanistico comunale e dei piani di inclusione sociale per i giovani. Ciò lo ritengo possibile con il gruppo con il quale corroboro, perché è un gruppo di professionisti con una spiccata dote di pluralismo e tolleranza. Quindi lancio un messaggio alle persone di Ortadella. Valorizzate la vostra arma democratica, ovvero il voto. Molti volti nuovi hanno avuto il coraggio di presentarsi a queste prossime elezioni. Voi dovete sostenere questo coraggio. Dovete mettere da parte le ruggine del passato e i motivi di frizione che vi hanno allontanato dalla politica locale. Andate a votare e fatelo con il cuore. Votate me, che sento forte la possibilità e soprattutto la volontà di fornire un reale contributo per risollevare le sorti di questo paese. Vi aspetto. Mi sono candidata con Orta al centro perché è arrivato il momento di dare una svolta sulla questione del randagismo presente sul nostro territorio. I cani e i gatti che ci troviamo qui per strada purtroppo sono tanti. Ed io, in veste di volontaria attiva sul territorio di Orta di Adella, preferirei avere la remissione in modo da tenerli comunque per strada, però seguiti e ovviamente poi man mano troveremo l'adozione adatta a loro. I cani verranno seguiti, ripeto, e verranno messe cucce in punti strategici del paese dove non daranno fastidio al centro abitato e soprattutto le persone che hanno paura non si troveranno in contatto con loro. Con Antonio Santillo abbiamo comunque già parlato della situazione, daremo un'agevolazione a chi adotta i cani del nostro territorio presenti in canile. Al momento ce ne sono tanti lì rinchiusi, quindi per qualsiasi cosa potete anche contattare me e insieme con il numero di microchip possiamo cercare di farne uscire almeno uno, perché ogni gabbia aperta per noi è un grande traguardo. Poi un'altra cosa che ci tenevo a dire è che purtroppo anche la questione dei gatti è molto frequente e basterebbe veramente poco, anche perché l'aslo fondamentalmente ci viene tanto incontro. Dichiarando una colonia felina l'aslo ci dà l'opportunità di sterilizzare 4-5 gatti al mese e di riportarli nel nostro territorio. E noi ovviamente, chi vuole, può anche dare da mangiare. Poi io sono sicura che se tutti dessimo una mano potremmo farcela. La scorsa consigliatura, interrotta anzitempo per motivi che tutti conoscono, non ci ha permesso di dare il contributo sperato fino in fondo. Sappiamo tutti ad Orta Diadella cosa c'è da fare e c'è tanto da fare. Credo che oggi le condizioni siano cambiate e credo anche che avremo tempo e modo per lavorare per il bene del nostro paese. Pertanto chiedo ancora una volta il vostro sostegno di cui mi avete già gratificato in passato e sono convinto che tutti insieme possiamo dare una svolta a questo paese. Spero che il 14 e il 15 maggio riponiate ancora una volta fiducia nella mia persona e da parte mia vi posso assicurare il massimo impegno. Votate Orta al centro, votate Raffaele Lampano.